allora ragazzi tavola 37 faremo la proiezione ortogonale di tre gradini incrociati con cioè con un pianerottolo in comune che abbiamo già fatto come proiezione ortogonale allora qui trovate esattamente le misure dei gradini che sono tre metri la larghezza diciamo così della rampa chiamiamolo in questo modo 1,5 la pedata 1 l'alzata e questi gradini sono poggiati nel pio e distanti dall'asse x e dall'asse y 0,5 sotto qui non trovate la misura di 0,5 però è la stessa che è scritta in quest'altro modo allora faremo adesso la sonometria cavaliera ricordo a tutti che la sonometria cavaliera è composta è fatta diciamo con gli assi inclinati a 30 e 60 gradi rispetto all'orizzontale questo vuol dire che rimangono di 90 gradi tutte le misure tra l'asse x e l'asse y non c'è deformazione allora la prima cosa che dovremmo fare è esattamente questa cioè quella di riportare diciamo così come base la proiezione ortogonale quindi con le misure esatte ecco ricordo appunto che essendo l'asse x e l'asse y perpendicolari tra di loro non c'è nessuna deformazione per cui la figura che andiamo a riportare di fatto ve la faccio rivedere qui identica questa misura è identica a scusate un attimo esatto qui è identica a questa quindi la prima cosa lo riportiamo con tutte le misure esatte 3 metri 1,50 stacco di 0,5 dall'asse x e dall'asse y il passaggio successivo incominciare a riportare le altezze le altezze le trovate nella proiezione ortogonale il primo gradino siccome l'alzata diciamo in generale è 1 per cui il primo gradino tireremo su un'altezza pari a 1 eccolo qua il secondo gradino a 2 il terzo gradino a 3 la stessa cosa nell'altra rampa il pianerottolo ovviamente sarà tutto a 3 fatto questo incominciamo a disegnare le diciamo così le pedate le pedate sono parallele all'asse x e all'asse y non a seconda del verso con cui stiamo disegnando quindi incomincieremo a riportare tutte queste pedate eccole qui e poi dopo le porteremo anche nell'altro verso e arriveremo alla fine ad avere questo tipo di costruzione riportando praticamente tutte le altezze e tutte le perpendicolari a x e y così come sono a questo punto dobbiamo esclusivamente decidere allora fino a questo punto è tutto disegnato con la mina 2h ok adesso dovremmo ripassare con la mina f o con la mina hb a seconda di quella che avete gli spigoli quali sono gli spigoli? gli spigoli sono tutti quei segmenti diciamo così che separano a due facce quindi per capirci questa è una faccia questa è un'altra faccia questo è uno spigolo questa è una faccia questa qui è diciamo la stessa faccia quindi questo qui non sarà uno spigolo ovviamente ma lo sarà soltanto questa parte sopra e poi ripasseremo con il tratto continuo gli spigoli in vista e con il tratteggio gli spiriti gli spigoli scusate che sono nascosti questo sarà il risultato finale come vedete appunto questa parte qui che vi dicevo prima non sarà uno spigolo per cui è rimasta soltanto quello 2h con la f abbiamo ripassato tutto questa parte e poi avremo tratteggiato questi tre spigoli che sono quelli che troviamo in fondo quindi questa è la tavola che dovete fare quindi con la proiezione ortogonale sopra un attimo con la proiezione ortogonale sopra e la assonometria cavaliera corrispondente sotto e poi prossimamente faremo anche la tavola 38 con la proiezione assonometrica isometrica grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione